scuola l'arte penso che possa davvero migliorare le tecniche di apprendimento un po in qualsiasi campo una volta che si capisce come usarla per stimolare la curiosità e per rendere i percorsi magari un po più in un certo senso interattivi per i bambini interattivi nel senso che loro possono usare il corpo le emozioni e proprio il fatto di produrre delle cose disegnando scrivendo facendo delle storie delle strutture insomma con una certa quantità di bricolage quando qualsiasi nozione passa dal loro corpo diventa loro grazie a tutti